E ora che faccio? Io non l'ho ancora detto ai bambini. Posso dirlo a Andrew, è abbastanza grande, ma non so cosa dire a Miles. Papà! Dov'è mamma? È ancora a Londra? Andrew? Non ho detto niente! Papà! Stai trattando quel ragazzo in un modo che non capisco. Di chi stai parlando? Di Andrew! Ciao papà! Con Gene Hackman. Incompreso, l'ultimo sole d'estate. Martedì, alle 21 e 10. Ti ricordavo solamente che è un bambino. Niente altro.